Loca, 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 Locatelli, Locatelli, che gol, che gol da fuori, fino alla fine, è così che si vincono i terbi, che gol, incredibile! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale, un abbraccione virtuale, buon weekend, post partita del derby della Mole, Torino Juve 0 a 1. È stato un derby vero, complimenti a entrambe le squadre, è così che si giocano i derby, brutta Juve nel primo tempo, meglio il Toro, che ha avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, Ma nella ripresa, finalmente una Juventus, di carattere, che ci ha creduto, fino alla fine! Questa Juventus è sempre più loca! Sblocca proprio Locatelli! Gol che arriva sul finale, al minuto 86. Manuel Locatelli, con un gol favoloso, regala la vittoria alla Juve. Azione insistita della Juventus, batte e ribatti, strappi di Rabiot da una parte, di Kulusevski dall'altra, e nasce il gol! Un tiro da fuori di Locatelli, palo-gol! Proprio all'angolino, e portiere battuto, è stata una battaglia, complimenti al Toro! Non abbiamo visto una Juventus stellare, ma quest'oggi era importante la vittoria, portare a casa i punti! Bene Kulusevski, quando è entrato? Quest'oggi abbiamo visto in campo anche il giovane Caio George, finalmente una Juventus di rendimento! Ci ha creduto! Dal primo al novantesimo voleva a tutti i costi vincere ed è arrivata la vittoria! Una partita durissima! Tanti falli, gioco spezzettato, occasioni da una parte e dall'altra! La Juventus è semplicemente cresciuta nella ripresa, cosa che non accade quasi mai quest'anno! È stata una partita equilibrata, l'episodio questa volta ha premiato i bianconeri! Toro 0, Juventus 1! Terza vittoria consecutiva in campionato, una Juventus sempre più loca! Per supportare il canale, solito clic qui in basso su iscriviti, attivate la campanella, fatemi sapere che partita avete visto, cosa ne pensate di questa Juventus! Pollice in su se vi è piaciuto il video, nel mio infobox, tutte le mie pagine social! Buon weekend e alla prossima! Bless!